Non contro Riven, non l'avevo visto Nova cane Povero Nova Nova cane Aspetta, adesso gli mando la foto La voce della verità Garen rules Ah, chi lo sa ragazzi A me puzza questo team, però Chi se ne frega Allora, io mi saccado con la Corrupting, sapete? Andrò con la Corrupting perché Queste sono le rune, abbiamo preso Biscottini più Time Warp Abbiamo già qualcuno con preme di connessione qua Il signor Smurfing for Vibes Ah, non l'ho visto il signor Smurfing for Vibes Cioè con un nome del genere E un tryhard tale Voglio far più vedere Quanto per cento io non l'ho visto? Deve essere un nickname ironico Smurfing for Vibes Tutte normal queste Poi ma che cazzo Non lo so ragazzi Ma che gente si trova Ma che cazzo di game mi sono trovato Vabbè Eh, va bene così Cioè nel senso Avete Avete un'idea di come funziona il mio campione? Non sanno neanche che fai No, infatti Direi che è abbastanza chiaro Voglio giocarmela meglio Sì madonna ma guarda I milioni dove mi inseguono Cioè non è mai così Quando mi attaccano gli altri Cioè questi mi inseguono in capo al mondo Ma che cazzo è? Ecco qua Sparisce Che scimmia Riven Vabbè gioco un champion che salta di continuo Se non è una scimmia Uno che gioca un champion che salta così tanto Cos'è? Eh Il champion del circo letteralmente Kalista Riven Saltate Saltate Round 2 Ah io ti picchio Come ti sei permesso Come? 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 Non conosce la potenza di Ivern Top Riven Sometimes I need to treat myself Life is such a strange miracle Uh Eh vabbè Vabbè Nel senso Benvenuto Nella mia Nella nostra giungla Vabbè Lì Non c'era molto da fare Diamo il benvenuto All'avversario Benvenuto Al nostro amico Trandol Se ho visto Che Riven era andata Un attimo sotto torre Player di qualità Che Riven era Che Riven era Che Riven era Facciamo. Ok, non c'è nessuno. Per adesso. Ick. Vieni, signor nobacane. Tic. Tic. Vedete che sto dando fastidio? Tic. Si stava incazzando come una maiala. Finalmente sono riuscito a venire di nuovo in live ed ecco la sub per il magico Ivern Top. Ok, Bobby. Grazie, D'Hunter. Bentornato, carissimo. Mettiamoci nel cespuglio e facciamo più danno. Ricordatevelo. Volete vincere con il potentissimo Ivern Top? Dovete mettervi nel cespuglio. Molto importante. Ivern le imballi, ma assolutamente sì. In pochi bullizzano come Ivern. È risaputo. Lo conto i champion melee. Quegli aggressivi. Grande counter. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose dentro. Punto. Ma sto Teemo, ragazzi. Cioè, qua stiamo parlando. Mo' viene a dintare da Riven, probabilmente. Ma Tristana? Perché mi sta gankando Tristana? Paolo! È un fan per forza. Nessuno ADC viene a gankare. Vai, Daisy! Mamma mia, il gank di Paolo! Mamma mia, un appaso a Paolo, c'è! No, arrivo, Paolo! Vieni, vieni! Ok, Paolo, va bene. Abbiamo fatto il nostro. Ah, c'è anche il mio red buff lì. Un attimo che Daisy prende. Ok. Vado a prendere il mio red buff. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Mi fate prendere il red buff, un attimo. Comunque dovrebbero metterlo un timer alla scadenza del buff. Vai, Daisy, vai! Cazzo. Devo flashare per forza. La scimmia ha saltato. Ma va bene così. Niente, mi sa che mi distruggerà tutta la torre in quanto... Oh, no? Uddio. Eh, sì. Mi distruggerà il mondo qua, ragazzi. Perché è tra andolo, lui. Vabbè. No! Lascia stare. Oh, sette wave sotto torre! Vabbè. Adesso abbiamo questo. Cambia tutto. Danida, grazie di tre mesi. Danida, grazie mille. Bene, dai. Andare molto peggio. Non so se Max è a W secondaria. No, andrò di Q. Andiamo con la Q. E Triven è andata a gankare mid. Comunque. Erano tutti top adesso. Oddio. No, cosa ho tirato per sbaglio? Va bene. Va bene. Nel senso. Ben tornato in top lane. E ti devo dire, fratello. Babysitting. Non so quante altre linee l'abbia gancato, però diciamo che top la sta gancando nuova. Especialmente un po' di jungle, una leggera jungle diff, ecco. Però abbiamo preso il drake, dai. Cioè, Smurfing for Vibing, ma in un altro gioco, non su League of Legends. Ma almeno Paolo è fortissimo. Meno male che abbiamo Paolo. Almeno ti potevano già sorrendare. Rundle da ditta demolizione e di ditta campeggio adesso. Servono più gank di Paolo. Paolo, torna a gankare la top, per favore. Serve un jungler e non ne abbiamo. Vieni qua. Nova il cane. Vieni qua. Vai, Daisy! Daisy meglio di ogni alleato, comunque. Non ho visto dove è Rundle. Sta arrivando top lane incazzatissimo. Questa è la domanda. Meno male che ho Daisy, ragazzi. Picchia, Daisy, picchia! Ok. Se mi permette di prendere la torre, almeno. Ovviamente Timo sta intanto, ma non avevo la minima idea. Però è più farm. Allora. Allora. Facciamoci tutto il quota redaction del mondo. Comunque Paolo 5-1. Meno male. Però come va a 30 minini in meno? Vabbè. Grazie il Zoom del Prime. Benvenuto, Zoom. Benvenuto. Questo lo prendo volentieri. Grazie. Guardate che comodità. Esserei veramente top hai sempre o il red buff o il blue buff. a seconda di dove sei? Non è una comodità questo. Faccio notare che qua la torre non c'è più. Ah, però vedo che anche nell'altra lane... Vabbè, puoi piazzarlo anche qua. Dove ti pare? C'è Spuglini. Oh, anche il blue buff arriva adesso. Vediamo adesso. Una bella passeggiata né a base nemica. E via. Grazie camicia Toriyama. Grazie il Prime. Gentilissimo o gentilissima. Vai, Paolo! Vai, Paolo! È grande Paolo comunque. Ah, andrò così, sapete? Eh, sì, sì, sì. Guarda come vorrebbe pushare. Sorpresa! Arriven qui? No. Non c'è. Andate a killare Teemo qua. Ma va, sti cazzo è un attimo un meme, cioè killatelo pure. Ho due punti e una scelta! Addio. Addio. Vieni qua Vieni qua Pip 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 Tutti Tutti Pic Easy Iver ne picchia tutti Tic Vai Daisy Vai Daisy Ragazzi Nerf Non ho fatto in tempo Non c'avevo la scudo Non è che l'ho fatto in tempo Non c'avevo lo scudo da mettermi All'Aki D'alternet mi salvavo anche lì con lo scudo Quanto mi dava scudo? 418 Quindi insomma Non male Non male Ah sapete cosa mi potevo mettere Nel secondo Potevo mettermi in revitalize È vero non ci ho pensato Con tutto lo scudo che ho Averbe fatto molto comodo Revitalize Vabbè Uh funghi No Ah Gesù Minchia Mi dispiace un po' per Teemo C'è proprio sfortunato in sta partita È scarso E quant'ha Però è anche sfortunato Quanto ci metto adesso A prendere sti cosi? Beh Istantaneo Attimo che sta cercando di capire come funziona Ivern Cos'è questo cerchio? Oh mio dio Mania strattino basso 0 2 Cirdix 100 Continuerò a cercarti nelle code Ancora e ancora Dovrai vedere il mio nick Uga buga Uga buga Uga buga Eh Ha haa Desi ma picchia Ma che cazzo fai? Desi mi stava guardando Mentre ero in zonia Che cazzo Desi ti licenzio Eh Insomma Desi Eh? Che cazzo mi buildo adesso Perché c'è Katarina? Deve essere sempre fiddata quando c'è Vado di Banshee Ah era bloccata Desi Mannaggia Vado di Banshee Sì Vorrei andare di Rabadon Però potremmo fare l'ultimo oggetto Prima ci serve qualcosa per Katà Che rompe troppo il cazzo Desi shopper Ma io l'ho tratto bene Desi Che cazzo Che cazzo Succhia Succhia Ecco Ho aspirato i pappagalli Il mio blue buff Molto bene Andiamo a prenderlo Minchia Ivern ragazzi Sì che avrebbe fatto Full cooldown reduction Pensate quanto cazzo Quanti cazzo di scudi mette Madonna Vediamo questo Ok Arrivo Non lascerò Il mio alleato In difficoltà Vediamo adesso Vai Desi Vai Dove è successo Sono fermo Aiuto Ho arrivato Paolo A fare pulizia contatto A gift from the bottom I find that the stranger life gets The more it seems to make sense The forest protects us all Guardate che cattiveria Desi Fa ridere Kata che se la prende con Desi Cazzo hai fatto Tanto ormai Desi è finita Eh ma ne ho un'altra ragazzi E adesso No Fuck Molto bene Ti muo Ti muo Ha fatto una resa incondizionata Vai Desi vai Poi a che botte Va bene Desi Hai fatto il tuo Ti hai tenuti tutti lontani E siamo riusciti a killare Trandola alla fine dei conti I got two thumbs and a shield I want to put my phone Attenzione Paolo Ah Ferma scudi Ma è velocissimo Ma il cazzo So funny you being trash Report riven Mamma mia Mamma mia Desi scala tutto in base alla p che hai Sia la vita sia il danno Se non è tutto in area Puli il tuo ap Scala Quindi più ap hai più è forte Desi Per farla semplice Vabbè ragazzi Paolo onorato Perché il gank livello 5 Mi ha mandato Veramente fuori di testa Riven Annichilita Completamente Mamma mia ragazzi Ma chi vi porta Della roba così Eh Più di ciò Va bene dai Grazie a tutti